Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale sul sito dell'Inps è presente una sezione Pensami, dove in pratica si può simulare la propria posizione contributiva e sapere a quale età si potrà andare in pensione. Bene, proprio su questo fronte non ci sono buone notizie, in quanto chi ha cominciato ora a lavorare e a 30 anni costui andrà in pensione a circa 66 anni e 8 mesi, in pratica quasi a 70 anni. Per raggiungere inoltre una pensione dignitosa il lavoratore a questo punto potrebbe lavorare anche oltre ai 70 anni. Il simulatore Inps Pensami è stato aggiornato con le nuove regole della legge di bilancio e proprio dopo gli aggiornamenti si è visto come la normativa non agevoli per niente le giovani generazioni e che ha cominciato a lavorare da poco. Non solo. Chi oggi ha 30 anni e ha cominciato da poco un lavoro, oltre ad aspettare i 66 anni e gli 8 mesi dovrà anche aver versato già 20 anni di contributi. Per poter andare in pensione è maturato un assegno sociale oltre una certa soglia. Mentre se il lavoratore non è riuscito a versare i 20 anni di contributi la sua pensione scatterà dai 74 anni. Secondo il simulatore un uomo nato all'inizio del 1994 che ha cominciato a lavorare all'inizio del 2022 e abbia almeno 20 anni di contributi andrà. In pensione di vecchiaia a dicembre del 2063 con 69 anni e 10 mesi. Insomma una batosta per le giovani generazioni per le quali una degna pensione, a causa anche dei contratti sempre più precari, sembra davvero ad oggi un miraggio.